Se è emozionata per la scuola, conoscerai nuovi amici. Questo implicherebbe che ne avessi di vecchi. Va bene, basta. Fate silenzio. Ehi, ci ha fatto piangere tutte in un modo o nell'altro. Ti va di vederci dopo la scuola? Questa è una cerimonia per celebrare te. Perché dovreste celebrare me? Da ora sei una di noi. Abbiamo oltrepassato il limite. È molto più grande di noi. Mi sento diversa. No! Non! 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 É했i! Non! Non! Grazie a tutti.